nella nostra società sappiamo bene quanto è importante gestire i soldi investimenti, beni immobili e mobili e prestiamo molta attenzione a non sprecare soldi e energie la cosa che mi colpisce di più è come sprechiamo una delle energie più importanti che è la nostra energia sessuale la sprechiamo non appena c'è la possibilità con un monitor o una sveltina e iaculiamo e per noi uomini l'energia sessuale è limitata non è illimitata come crediamo abbiamo a disposizione un numero limitato di eiaculazioni nel corso della nostra vita non sono illimitate e la verità è che eiaculando troppo spesso si va in debito di energia è come se avessi finito i soldi quindi qualcuno te li deve prestare e in questo caso nessuno ti può dare questa energia indietro se non il tuo stesso corpo chi ha compiuto i 40 anni lo sa bene perché c'è un cambio ormonale se non la gestisce bene ogni anno può perdere il 2% di testosterone e si sente che una eiaculata pesa di più di quando si aveva 16 anni ci vuole più tempo a riprendersi se avessimo la stessa accortezza di ricaricarci di prestare attenzione a non disperdere così spesso il nostro seme ne gioveremmo in salute, vitalità e felicità come gestisci la tua economia sessuale? può costare molto nel tempo sprecare la propria energia la ritenzione del seme e della sessualità cosciente sono dei percorsi che ci permettono di ricaricarci facendo l'amore di diventare padroni della nostra energia non andando più in debito ma anzi arricchendoci ogni giorno di più arricchendo il nostro corpo, la nostra partner e il nostro spirito